E' stato ritrovato purtroppo senza vita questa mattina una scarpata dai cinofili dei vigili del fuoco Corrado Cipolloni, l'anziano scomparso venerdì scorso da Silvi. Erano da poco passate le 8.30 di questa mattina quando i cani hanno fiutato alla presenza del corpo dell'87enne di cui si erano perse le tracce da due giorni a Silvi. Dopo lunghe ore di ricerche effettuate in condizioni difficili a causa delle proibitive condizioni meteo, stamani i cinofili dei vigili del fuoco del comando di Parma hanno ritrovato l'87enne privo di vita lungo una scarpata piena di rovi a circa un chilometro di distanza dalla propria abitazione. Alle operazioni di ricerca attivate e coordinate dalle prefetture di Teramo hanno partecipato oltre ai vigili del fuoco personale degli aeromobili a pilotaggio remoto per il solvolo con i droni cinofili e un elicottero, anche i carabinieri e volontari della protezione civile. Nonostante una mobilitazione massiccia la vicenda di Corrado Cipolloni si è conclusa nel peggiore dei modi.